c'è anche cinquanta eh ma io lo vado a rianimare ora eh eh lo rianimo si si no se questo è il doppio cecchino non squagliati che fai lo rianimi no è lì sotto dove cazzo è il suo amico di merda è meglio si vabbè dove cazzo ora si rianimano guarda eh ci ho detto si rianimavano vabbè qui c'è del micking però eh arriva c'è rip senza pozze signori non si può giocare senza pozze senza pozze io so tutti da un'altra parte materiali ce l'hai? si vabbè eh è lì dietro ma c'è un mici ma c'è un mibi io voglio andare l'altro è dietro il metallo spaccio il metallo è lì dietro ma è questo è lì è lì è lì dietro sciocano no ehi perché tutti se li trovi oh no vuole il mio booty eh ma io voglio questo però quindi apri aspetta che cazzo non c'è il gian e vichi ah no eeeh via eh fan culo diobbe ma che ci fa l'omega ah fai omega cioè l'omega di solito squaglia c'era lì a trollare ma che problema c'hanno le hitbots in sto gioco comunque l'hanno un po' peggiorato secondo me prima entravano ora non entravano ma si è gatto sei sotto la scena dov'è l'omega però è sopra? sta secondo me l'omega è sopra che se no non si spiega oh è in tempesta oh è morto cioè che cazzo quando si è andato un omega è mehking si è capito qui il filo delle botte la tempesta è inghiottito eccolo è l'omega una coppia e due singoli? si fammi spaccare sto albero che li voglio apitare faccio entrato allora ripria allora basta sono da solo devo andare sul monte mi sa si 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 aspetta ero oddio lo sai che questa partita qua l'ho già vista che ero qua l'ho già giocata questa partita l'ho perso dov'è il suo amico di merda è laggiù va bene dove ti faccio te oddio vabbè dov'è uno due tre quattro ah il timing dov'è quell'altro? mi dica in tempesta se in tempesta la situazione è molto micchi no no è sempre lì sono sempre lì sti rotti in culo guardalo io ti miro ecco ti miro ti ammazzo si 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 guardalo guardalo la trappola è ghiacciata in che senso? dove chiude? ups ups no cazzo loro c'hanno l'affare giampino come c'hanno il giampino? che c'hanno loro? l'affare del vulcano che è l'affare del vulcano? ah ah yeet ok oddio arrivano si mi saltirà le granate ma io che devo fare? io devo scappare? basta a lei o no o gli devi spaccare ma senti ma loro vanno in tempesta cioè il fatto è questo anche no? non so in tempesta tipo quello ah chiude di qua vabbè 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 sono già arrivati no vabbè fanculo che mici dai muoviti tempesta che cazzo ah quell'altro è morto non l'altro è morto non l'altro è morto ah 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 ha dipinto il materiale ah 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 dio sì i i potati si sì sì io io ho lo spam ma io ho spam oh scusa se kill se kill meking con l'omega che muore in tempesta vai